Buongiorno a tutti e benvenuti a Giardini ed Intorni, la rassegna promossa dal Centro Internazionale di Studi sul Paesaggio in Toscana Pathos dell'Università per Stranieri di Siena. Con l'intervento di oggi ci avviamo con molto rammarico a chiudere la stagione delle conferenze autunnali del 2021. Oggi sono con noi Giorgio Galletti e Martina Marolda e ancora una volta quindi due studiosi le cui competenze si confrontano sul tema che ci accompagna che è quello del giardino e si incontrano in questo caso su un giardino dalla storia un po' particolare, un giardino tardorinascimentale, quello degli orti leonini appartenuto a Diomede Leoni che si trova a San Quirico d'Orce. Un caso davvero un po' speciale perché noi fino ad oggi abbiamo visto prevalentemente dei giardini che in qualche modo completavano delle residenze, delle residenze nobiliari prevalentemente, un giardino in convento. Ecco in questo caso abbiamo il giardino, un giardino che è svincolato da una residenza e che si sviluppa in contiguità di spazi che non sono spazi patrizi per esempio. Questo giardino, le vicende di questo giardino noi le seguiremo anche in relazione alla sua fortuna odierna, le sue vicende di questi giorni perché si tratta di un caso davvero speciale anche in questo senso in cui si può registrare un interscambio costante tra passate presente poiché ospita ormai da 50 anni la rassegna di arte contemporanea Forme nel Verde. Quest'anno tra l'altro ricorrono i 50 anni dall'istituzione di questa iniziativa. Veniamo a questo punto agli oratori e cominciamo con Giorgio Galletti che sarà il primo a prendere la parola perché ci accompagnerà nella scoperta del giardino per quella che è la sua fase iniziale. Giorgio Galletti è uno storico dell'architettura, è stato impegnato per un lungo periodo nella sottointendenza di Firenze e insegna oggi al restauro dei giardini, dei giardini storici all'interno del master di paesaggistica di architettura all'Università Fiorentina. A Firenze però svolge anche l'attività di libero professionista. Come avrete capito ovviamente ha una grandissima competenza in fatto di giardini storici tanto che per esempio dal 2016 fa parte della commissione internazionale per la revisione della carta ICOMOS IFLA relativa ai parti pubblici urbani storici. Questi interessi nel tempo lo hanno portato a occuparsi del restauro di molti giardini storici. È in questo senso, in questa veste che per esempio nel 2020 si è occupato del master plan del restauro del del giardino di Mobuli, quindi un giardino importantissimo per la storia di Firenze. Ha seguito tanti restauri importanti, per esempio anche fuori Firenze. A Roma ne ricordo solo qualcuno, quello di Villa Medici, ma si è occupato a Roma anche per esempio di altri complessi. Più volte è intervenuto sul giardino di Villa Borghese, si è occupato anche del giardino della Villa Paolina Bonaparte e a Firenze ovviamente i casi sono ancora più numerosi. A Firenze ha seguito i restauri del giardino del parco della Gherardesca e i restauri dei giardini di Molteville. Mi dice per esempio quello della Petraia, quello di Castello, quello di Poggio a Caiano e poi giardini di di residenze che sono altre istituzioni museali importanti, come per esempio quello Bardini. Si è occupato della provincia fiorentina, per esempio ha lavorato a Barberino del Mugello, a Villa Le Maschere, ma i suoi interessi lo hanno portato anche a Pescia nel parco di Collodi, lontano, lontanissimo da Firenze. Si è spinto fino a Marrakesh in ripetute circostanze e ultimamente al Real Bosco di Capodimonte e a Napoli. La sua bibliografia è una bibliografia molto variegata e anche molto nutrita. Segnalo in questo senso per esempio gli interventi sul palazzo Besta a Teglio, edito con Mulazzani nell'83, le ville e giardini di Castello e Petraia, uno storico intervento realizzato questo con Cristina Cidini-Luchinac nel 1992 e poi ricordo i contributi sui giardini di Cecil Pinson in Toscana e poi una serie di affondi per esempio dedicati al giardino di Boboli, sul quale è intervenuto in relazione a molti aspetti, aspetti che lo hanno portato ad approfondire le vicende della grotta grande di Boboli, la grotta cioè del Buontalenti, l'anfiteatro e poi che lo hanno condotto a studiare anche gli interventi di Paoletti, Poccianti e Caccialli. Non meno importanti però sono stati anche i suoi contributi dedicati ai giardini letterari e gli interventi che hanno avuto per oggetto l'esame dei parchi ottocenteschi di Poggi per esempio. E vediamo a questo punto a Martina Marolda, la quale invece è una storica dell'arte contemporanea. È una studiosa molto giovane ma molto vivace e che si è laureata e specializzata a Siena e ha dottorata a Firenze e ha spiccati interessi in relazione alla videoarte, all'arte degli anni trenta, alla storia dell'architettura. Ha già al suo attivo una variegata rassegna di iniziative, specialmente in area senese. Ha lavorato infatti a San Gimignano e con culture attive a Colle Valdelsa e nel Comune di Siena. Iniziative che l'hanno portata a collaborare con musei e con istituzioni locali e internazionali, ricordo in questo senso per esempio l'importantissima Galleria Continua o anche l'Università di Siena, quelle strutture che sono impegnate nella promozione quindi dell'arte contemporanea. Anche lei ha già all'attivo molte pubblicazioni, ne ricordo qui qualcuna. Ricordo per esempio la curatela della mostra post Fata Resurgo del 2013 tenuta al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, i saggi Emporium, Politiche Editoriali e Prasse Redazionali nel carteggio Pica Gaffurri del 2017, Adrian Pacis Art House in Skolder e Common and Shared Space Between Cultures and Art del 2019. La formazione è il contesto senese tra anni 20 e primi 30 del 2020 e dello stesso anno se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco e leggere la propria città attraverso l'arte contemporanea. Tengo però a ricordare anche un ultimo intervento molto importante specie per quello che riguarda anche come dire il suo intervento, la sua chiacchierata di oggi e si tratta delle numerose schede, dei numerosi contributi che ha offerto per il volume che stiamo tutti attendendo con molta curiosità che è curato da Anna Mazzanti che è in via di uscita e il cui titolo è La vocazione della Toscana contemporanea nel sistema italiano dell'arte ambientale. Arte ambientale appunto che ci riporta anche al caso di oggi. Lascio a questo punto la parola nell'ordine a Giorgio Galletti e poi a Marta e poi a Martina che quindi ci propongono l'intervento dal titolo A proposito degli orti leonini di San Quirico d'Orcia. Giorgio ti lascio la parola. Mi sono occupato degli orti leonini per un ben preciso motivo perché mi è stato chiesto di fare una consulenza a un lavoro, un grosso lavoro di intervento sulla parte cosiddetta del bosco della ragnaia che versava in condizioni veramente preoccupanti. Quindi questo lavoro è stato iniziato comunque lo studio nel 2018 è praticamente ancora in fase di conclusione e diciamo che è stato con il periodo del covid è stato realizzato questo forte intervento di riempianto e di intervento di parte di sostituzione in parte di potature degli alberi di questo bosco che erano veramente in cattive condizioni. Lavorando su questo e facendo la ricerca grazie anche all'amico Alessandro Chermona che è uno storico dell'arte che lavora al diciamo lo storico dell'arte che si occupa delle ville comunali del comune di Roma e sono venute fuori un documento molto importante che è ancora inedito ma lui mi ha dato informazioni della biblioteca nazionale di Parigi dove sono raccolte c'è uno in questa biblioteca la silloge delle iscrizioni che Diomede Leoni aveva scosparso nel suo giardino e anche in una piccola dimora che lui si era costruito sulle mura che delimitavano a ovest il giardino. Il giardino è una parte del cassero delle mura di San Quiricodorcia di origini medievali. Diomede ebbe in praticamente la storia è complessa in concessione dal cardinale Zerdinando de' Medici prima che diventasse il granduca di Toscana quindi quando era cardinale a Roma in concessione questo terreno dove lui crea degli orti. Il problema è che spesso si legge, anzi c'è questo luogo comune che sto cercando con altri di sfatare che il giardino che vediamo oggi, questo parterre con questa composizione radiale che gli inglesi chiamano Union Jack sia ancora il giardino di Diomede Leoni e che sia ancora un giardino perfettamente conservato e non c'è niente più sbagliato per vari motivi. Intanto la silloge che riporta tutte le iscrizioni che erano nel giardino riporta anche un'iscrizione di cui parlerò dopo, cercherò di fare presto, che dà una descrizione di come era fatto l'orto di Diomede. Quindi da questo luogo comune, e io avevo sempre sospettato che si trattasse di un revival perché conoscendo un po' la storia dei giardini rinascimentali, se c'era una pianta che era profondamente desestata nel corso del Cinquecento era il bosso. C'è una continua raccomandazione da parte dei trattatisti di non usare il bosso perché emanava cattivo odore, perché vi si nascondevano le serpi e anche in tutto, c'è esiste tutto un carteggio che riguarda Villa Medici dove fra il segretario di Ferdinando, De Medici era già diventato Granduca e il segretario e il giardiniere Marenzio di non piantare assolutamente il bosso perché appunto per questi suoi difetti e anche impedisce di coltivare altre fiori o ortaggi. Ma chi era Diomede? Diomede è un personaggio, in parte è stata ricostruita da una studiosa americana, un po' la sua biografia, comunque da varie notizie sappiamo che nasce nel 1522 e muore nel 99. È stato protetto in parte da, quando era giovane, addirittura va a Parigi, che è sotto la protezione di, scusate un attimo, sotto la protezione dei Corners, va a Parigi sotto la protezione del cardinale Corners, che poi lo introduce tramite il cugino del cardinale Corners, Francesco Pisani, lo introduce a Roma. E lui comincia a studiare e a vedere tutti gli scavi che stanno avvenendo in quel periodo, quindi siamo nella seconda metà del Cinquecento e oltre quello si dedica anche allo studio delle piante. e quindi entra nel cerchio del cardinale Ferdinando de' Medici e lui acquista alcuni pezzi importanti per Ferdinando de' Medici, quali il vaso Medici, l'obelisco che attuale a Egizio, che viene dalla Minerva, dalla chiesa di Santa Maria sopra la Minerva, e quindi il vaso Medici, ma anche altri reperti meno noti. Oltretutto lui si specializza nel mestiere di epitomatore, cioè di conoscere il latino molto bene e quindi a studiare le iscrizioni antiche e a comporne di nuove, di queste iscrizioni antiche, fra cui anche per, ad esempio, per, lavora per Alessandro de' Medici, prima che diventi futuro papa leone undicesimo, e fa delle iscrizioni destinate alla villa dell'Amelia. Ma perché le iscrizioni? Perché è un carattere di Roma, forse l'abbiamo soltanto a Napoli, i giardini avevano questa tradizione di avere delle lex ortorum, leggi sugli orti, e che sono ispirate a iscrizioni, appunto, antiche, classiche, e, ad esempio, vediamo, c'è un esempio qua, un'importante collezione di antichità era quella del cardinale Andrea della Valle, e qui vediamo un'incisione di Francesco d'Ollanda, Andrea della Valle aveva un giardino pensile con basso rilievi e sculture di vario tipo, e una serie di iscrizioni che sono, vedete, in alto al, non so se si vede il mouse, insieme a queste maschere teatrali delle iscrizioni che parlano di varie cose, di amicizia, di benvenuto, sono dedicate appunto al visitatore, agli ospiti. Ci si può ricollegare anche al Trattato dello Splendore di Giovanni Pontano che scrive appunto che ci deve essere benvenuto da parte del proprietario che ha una collezione, quindi ha degli splendori nella sua dimora e soprattutto anche nel giardino. Ecco, vedete, qui c'è la trascrizione dell'escrizione che erano nel cortile del Cardinale Andrea della Valle. Dico soltanto una molto importante, secondo me, per un giardino di antichità, quale aiuto ai pittori, ai poeti, oppure in memoria dei nostri avi per l'emulazione dei loro discendenti. Quindi moltissimi giardini romani all'ingresso avevano una lex ortorum. Ad esempio, Ferdinando, nel portone, nel portale principale di ingresso alla Villa Medici al Pincio, fa inserire due iscrizioni che sono ancora ben leggibili e dove lui si ricollega praticamente a quelli che avevano creato nel Pincio, vari giardini come Sallustio, gli orti sallustiani, mi viene in mente, e quindi lui scrive appunto che riporta allo splendore, riporta lo splendore al colle degli orti, il colle Sortolorum, che è il Pincio. Quindi la tradizione delle iscrizioni è molto importante e Diomede è protagonista di questa, diciamo, non mi piace la parola, di questa usanza di comporre e di le iscrizioni. Quindi antiquario, epitomatore, ma anche, come lui si definisce, ortolano, cioè l'ha pubblicato Susan Butters, carteggio fra il cardinale, ordinando ancora cardinale, e Diomede, dove lui si definisce ortolano. E tant'è che il cassero di San Quirico d'Orce nel Rubina, lui comincia a rimetterlo a posto, si crea una piccola padiglione, che poi si può paragonare a una dieta, che le dietano questi padiglioni che stavano nei giardini, di cui parla Plinio e il giovane nella lettera sul giardino toscano, e quindi inizia questo lavoro. Ma non è proprietario. Ferdinando lo compra, questa proprietà, e gliela dà in concessione. E dentro il palazzo Chigi, che viene poi, Chigi Zondadari, che viene realizzato alla fine, sotto Flavio Chigi, negli ultimi vent'anni del XVII secolo, esiste un'iscrizione che non vi sto a leggere, ma che testimonia la presenza di Ferdinando, ancora cardinale, di venire a visitare Diomede e quindi anche il suo orto. Quindi un orto. Ecco, qui vediamo alcuni elementi che ci legano alla storia di Diomede. Uno dei busti, raffiguranti di Michelangelo, questo di Daniele da Botterra, che sappiamo che era appartenuto a Diomede Leone, il vaso Medici, e l'obelisco di Boboli. Poi lui, e qui vediamo le mura, vedete quel piccolo edificio soprastante, è la dieta, chiamiamolo così, il padiglione, che lui si fa costruire. Tra parentesi, i giardini, i giardini orti leonini sono di proprietà comunale, ma quella parte è ancora di proprietà. Chigi Zondadari. E nella scoperta della silloge delle iscrizioni, va bene, che ha trovato Alessandro Cremona, si legge, e questo lo devo leggere attentamente, tutte le vie, questa iscrizione stava all'ingresso del giardino, quindi era una lex ortorum, tutte le vie e i sentieri con i quali è ordinata la piantagione degli orti ti conducono verso quella principale e davvero magnifica. Lì troverai una quiete sicura e certa e là ti accosterai con castità e santità, poiché se in ogni luogo ti sarai dilettato delle comunità dell'albergo o delle amenità degli orti, ti renderai grazie secondo il rito dell'autore di tutti i beni. Cosa vuol dire? Che il giardino, che ha una forma triangolare, aveva un asso centrale verso il quale convergevano dei sentieri secondari, laterali e perpendicolari, quindi era formato come una sorta di disca di pesce. Quindi questa iscrizione è molto importante come altre iscrizioni fra cui di ispirazione antica, fra cui questa che ancora leggiamo perché molte sono andate perdute, questa omitte, mirari, beatet, fumos, et opes, strepitunque, Rome. Cercate di evitare, di ammirare la polvere e il rumore delle architetture della beata Roma, per dire stato lontani dallo strepito di Roma, te che Diomede ama ritirarsi poi da Roma e stare nei suoi orti a San Quirico, oppure questa è molto interessante che sta dentro la collezione Chigi Zondadari da Pessinetta Saffarat, cioè è ripresa da Orazio, cioè voi prendete delle vivande che non siano comprate ma che siano coltivate. Quindi c'è quest'idea di coltivare all'antica, quindi l'imitazione degli scrittori serei rustiche di catone e di colummella ma delle virtù degli antichi che coltivano loro stessi con le proprie mani gli orti. Vediamo qui alcune immagini, vedete ancora in quella all'alto a sinistra sappiamo ci sono i documenti che lui costruisce una sorta di galleria sopra le mura, purtroppo questo tratto delle mura di San Quirico è stato bombardato, oggi è stata creata una porta dopo la guerra, il cassero ancora con il giardino con la ragnaia ancora potata come erano piantate e potate le ragnaie e quello che resta del cassero. Prima questa è una foto di qualche anno fa vedete questa massa che costituisce la ragnaia poi due parole sulla ragnaia e proverò a dirla è questo giardino di bosso e topiario ritenuto da tutti un autentico giardino del Cinquecento. Mi piace mi dispiace sfatare questo mito però ormai da parte di molti è accettata questo fatto che si tratti di una ricostruzione ottocentesca e vediamo bene da un documento importante che è la veduta di Vincenzo Ferrati che sappiamo nel cartiglio anche se mi pare che nessuno l'ha notato mi pare e poi può darsi che mi sbagli c'è proprio la data 1700 quindi viene fatta ad Angom questa descrizione della questa veduta a volo d'uccello della della di San Quirico vediamo gli orti in questa zona con ancora il cassero con la loro forma triangolare se si non so se si nota quindi un viale centrale rettilineo che traguardava una piazzetta circolare da cui poi si capisce che partiva una scala che conduceva al piano del cassero e le vialetti laterali quindi perpendicolari che erano proprio si intravede nell'incisione del ferrati che erano porche le porche sono aiole per la coltivazione quindi c'era una coltivazione di orti di ortaggi di cibo di alberi da frutta questo è quasi documentato e chiaramente in una situazione del genere un giardino formale come siamo abituati a vedere oggi non poteva esistere quindi sicuramente abbiamo un'immagine completamente falsata qui si aggiunge anche la posizione della statua che era figura Cosimo III dei Medici che in realtà era destinata a stabilire nel cortile del palazzo Chigi Zondadari altri documenti che testimoniano questo purtroppo non si vede molto bene perché non sono mai riuscito ad andare alla biblioteca comunale di Siena comunque una veduta degli orti in uno scorcio di San Quirico dove si capisce che i biali erano ortogonali alle mura e non questo disegno a diamante come siamo abituati oggi c'è anche un altro documento interessante che è il progetto di Domenico Fontana per il palazzo Chigi Zondadari Chigi scusate per Flavio Chigi che era diventato si era riuscito a ottenere il titolo di Marchese di San Quirico da parte di Cosimo III e quindi il primo progetto di Domenico Fontana era quello di realizzare il palazzo a ridosso della Torre del Cassolo e vediamo appunto anche in questo disegno si intravedono c'è una O e dice proprio orto o giardino siamo nel piano superiore la N dice dunque dice mi pare bosco di ragnaia e per i merdi quindi abbiamo documentato che il bosco degli orti di ronini era usato come ragnaia poi questo progetto non viene realizzato perché poi il palazzo viene fatto nell'attuale posizione vicino a insomma nella parte vicino alla famosa chiesa ora non mi ricordo come si chiama la chieve quella che insomma c'ha le sculture attribuite a Giovanni Pisano quindi le ragnaie erano molto diffuse erano boschi di uccellagione ora non posso insistere per troppo su come funzionava una ragnaia ci provo erano questi c'è una letteratura immensa nel Cinquecento sulle ragnaie ci sono soltanto il trattato dell'Olina il trattato del Popoleschi il canto degli uccelli di Antonio Validattodi le ragnaie dovevano essere dei boschetti perfettamente potati pareggiati e sfilati cioè perfettamente perpendicolari nella parte interna dei viali per un motivo molto semplice perché le reti da caccia venivano tese all'interno e longitudinalmente a questi viali gli uccelli venivano spinti con dei sistemi di atterraggio a cercare rifugio nel boschetto ma trovando gli alberi pareggiati quindi non c'erano rami che fuoriuscivano si infilavano in questi corridoi andavano a sbattere contro una rete che aveva era fatta come un tramaglio quindi avevano all'interno una rete molle venivano insaccati e poi andavano a aglietare la mensa del principe e ragnaie ne sono rimaste molto poche ben conservate ecco nel senese ce n'è una meravigliosa che a Castelnuovo per Ardenga che vediamo ancora la ragnaia proprio il podere della ragnaia che ha subito delle modifiche ma è ben rappresentata dal romagnolo dove si vede proprio questo boschetto con la pareggiata e i viali interni che servivano per l'attesa delle reti una ancora intatta è quella della Villa La Chiete e qui vediamo un'incisione dal trattato dell'olina del tempesta che fa vedere come si atterravano atterrivano gli uccelli in modo che loro poi cercassero rifugio all'interno della ragnaia quindi il giardino Chizondadari il giardino scusate gli orti leonini avevano questa forma di ragnaia e tant'è che un altro documento che testimonia come si è comunque alterato l'immagine che abbiamo oggi è dato da un cabreo dell'archivio Chizondadari che è del 1795 dove si vede il cassero le mura che corrispondono ancora con questa sorta di piccole abitazioni che Diomede aveva creato e si intravedono i vialetti laterali che sono perpendicolari alle mura poi una piazzetta rotonda che si intravede anche nella veduta del Ferrati quindi con questa sorta di raccordo a forma convessa e poi i boschetti pareggiati come erano delle ragnaie particolare molto che dà l'attendibilità che questa veduta sia attendibile perché fa parte di un cabreo quindi ci sono proprio le descrizioni di come era la 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 forma e la produzione e la manutenzione anche del giardino la presenza di una ghiacciaia che ancora è presente le ghiacciaia però avevano dovevano essere coperte da un cono di paglia più vediamo ancora la struttura della ghiacciaia e in basso non so se la vedete si intravede la ghiacciaia della vila medicia di Poglio Pagliano poi è stato trovato pubblicato già in un volume sul palazzo di Chigi Zondadari un catastro del 1800 spettate dovrebbe essere il 1825 dove si vede finalmente il disegno degli orti lorini con questa forma a triangoli raccordati in una sorta di disegno diamantato che è quindi siamo negli anni nel 25 ora il giardino apparteneva quindi questo è un termine antequem la data di questo catastro e il giardino era Chigi Zondadari allora abbiamo ci troviamo di fronte a un fenomeno molto precoce di revival del giardino all'italiana qui sarebbe un argomento molto lungo da spiegare comunque nel corso dell'800 si ha quest'idea del giardino all'italiana come un giardino composto sostanzialmente di piante sempre verdi quindi il bosso che invece nel rinascimento era soprattutto nel 500 disprezzato e guarda caso proprio in quegli anni il Chigi Zondadari il Angelo Chigi Zondadari ricrea diciamo in forma di revival il il giardino di Vicobello dove è presente anche vedete qui una ragnana ma queste siepi di bosso con questo aspetto formale con questi parterri con il bosso dal scusate spengo dal dal bosso è un revival degli orti di l'olio è probabile che sia lui l'autore della ricostruzione degli orti ma un altro aspetto interessante qui io devo purtroppo fare una critica esiste oltre questi luoghi comuni che comunque si leggono di questo giardino che è una capsula del tempo del 500 c'è stata una studiosa che ha supposto siccome Diomedia era molto legata a Michelangelo e quindi lui assiste insieme a tutta la cerchia di Michelangelo alla morte di Michelangelo insieme Alessandro Remedici Tommaso del Cavaliere Giacomo del Duca e Daliere dal Botterna che il disegno degli orti questa signora questa studiosa l'attribuisce a Giacomo del Duca pensando che comunque fosse ispirato al disegno della pavimentazione del Campidoglio di Michelangelo allora la veduta del Ferrari e il cabreo del Chigi Zondadari e la descrizione della Lex Hortor nella silloge che sta alla biblioteca nazionale di Parigi tagliano una testa al Tor che questo è il disegno diamantante è un disegno non quello originale di Diomede ma c'è anche da dire questo ricordiamoci che comunque anche il pavimento del Campidoglio pur puntualmente concepito da Michelangelo è stato realizzato negli anni 40 del XX secolo sulla base di un'incisione di Etienne di Perac e qui metto proprio per devo dire per polemicamente vai su Wikipedia e ti fanno questa proposta di un'interpretazione simbolica addirittura ricorrendo a come una croce di Malta ci si parla di secondo San Matteo quindi tutta un'interpretazione religiosa che non ha nessuna attendibilità oggi gli ortiglionini sono stati oggetto di restauro si spera di vederli si stanno ricomponendo un intervento molto pesante è stato per le condizioni di mancanza totale di manutenzione del giardino vediamo questo è prima del restauro poi questo è di pochi giorni fa le piante si stanno ricrescendo le siepi si vanno ricomponendo e si tenderà a cercare di ricomporre un'immagine molto simile a quelle delle ragnaie io con questo chiuderei però appunto sottolineando che ricordiamoci non del giardino di Diomèdeleone sono rimaste le mura e forse forse l'impostazione del bosco ragnaia che sta nella parte diciamo collinare che sale verso il cassero degli orti bionini siamo arrivati quindi all'epoca attuale e mi piacerebbe iniziare a parlare degli orti leonini partendo dal paesaggio che c'è anche al di là degli orti ovvero la Val d'Orcia la Val d'Orcia è uno straordinario sito patrimonio unesco uno tra i luoghi più ammirati al mondo sia per appunto il suo paesaggio unico e inconfondibile che anche per le eminenze storico-artistiche dell'antichità e della contemporaneità una sosta obbligata ovviamente lungo la via francigena questo territorio ha saputo ospitare negli ultimi anni anche un turismo lento e di qualità che invita appunto alla visita e alla sosta all'interno di questo una cosa però molto molto precipua è il fatto che chi abita tale area ha scelto di rinnovare in modo rispettoso il fermento culturale che è l'anima e che vede nell'intreccio tra natura arte e uomo appunto uno dei suoi caratteri più spiccati è un territorio quello della Val d'Orcia e anche gli orti leonini il sito degli orti leonini che da anni ha saputo confrontarsi con la contemporaneità in varie forme una di queste appunto è la rassegna che da 50 anni anima gli orti leonini e la fa lo fa rivivere rileggendolo in chiave appunto contemporanea vi porto l'edizione attuale quella del 2021 che celebra appunto i 50 anni è un'edizione che arriva dopo la pausa forzata dello scorso anno del 2020 e perciò innovativa che mette comunque nel rispetto della prima edizione mette sempre come base il confronto tra lo stile classico e quello contemporaneo a cui guarda con entusiasmo da sempre la cinquantesima edizione dicevo un'edizione innovativa perché è un'edizione ancora più diffusa rispetto agli anni passati diretta da Carlo Pizzichini vede la personale di un artista di origine albanese Elidon Shisha e pone al centro la scultura in particolar modo anche la terracotta come tipo di materiale che viene utilizzato è tuttora visitabile è stata inaugurata il 24 luglio e durerà fino al 2 di novembre e presenta al pubblico appunto oltre alla personale di Shisha anche alcune rare ceramiche di San Quirico d'Orcia della fine del 600 che dialogano con quelle contemporanee di Paolo Polloniato c'è un omaggio al suo fondatore Mario Guidotti una selezione di opere degli allievi delle accademie italiane di belle arti insomma un modo sicuramente per gettare le basi future e ripercorrere tutto il lavoro che è stato fatto fin qui e portato avanti negli anni dall'organizzazione e dal comune ponendo sempre particolare attenzione alla giovane creatività eccolo qua forme nel verde la mostra internazionale di scultura contemporanea nata qui da un'idea del giornalista curatore e scrittore Mario Guidotti che è scomparso scomparso circa dieci anni fa che nel 1971 ebbe l'intuizione di demusealizzare l'arte portandola in mezzo alle persone calandola quindi nella loro quotidianità secondo quel principio della continuità tra l'antico del paesaggio e il moderno delle opere tra la logica delle aiuole di verde e il senso o non senso delle strutture che le vanno ad animare che le vanno che ci vanno a dialogare insieme qui appunto c'è una testimonianza delle tre figlie di Guidotti che ci parla del momento dell'idea iniziale che ispirò appunto il fondatore della rassegna e proprio mentre rientrava di notte percorrendo i tornanti che da Montalcino scendono verso San Quirico ebbe una visione che amava raccontarci una sagoma bianca gli apparva all'improvviso rischiando di farlo andare fuori strada era la statua di Cosimo III dei Medici che si trova al centro degli orti leonini il bellissimo giardino michelangelesco di San Quirico doccia la visione gli suggerì l'idea di una grande mostra di scultura informale astratta concettuale povera moderna e qui fa vedere proprio poi tutta l'evoluzione perché diciamo c'è un po' di tutto anche in questo racconto fatto dalle figlie in contrasto con la perfezione geometrica razionale il progetto di vivere le forme dell'arte l'elenco degli artisti che hanno mostrato nel senso letterale della parola le loro opere è infinito ognuno dal più famoso all'emergente ha voluto dare il massimo esprimere la sua visione a volte anche al di là delle proprie forze Mario Guidotti nostro padre organizzava l'evento ogni anno con lo stesso entusiasmo della prima volta quando quasi nessuno poteva credere a quel miracolo di unione tra il sacro il perfetto giardino all'italiana e il profano arte a volte dissacrante e incomprensibile diciamo è anche un'idea pionieristica se pensiamo a Volterra 73 una delle prime manifestazioni che porta l'arte nello spazio pubblico Guidotti nel tentativo di demusealizzare l'arte ci pensa a partire dal 71 cito adesso riprendendo le parole di Pierluigi Serafini e Bruno Dionisi per quanto riguarda l'edizione del 1982 di Forme del Verde quella poi la mostrerò dopo che vede la personale di Pietro Cascella la mostra ha sempre seguito con coerenza l'indirizzo critico di inserire in un ambiente naturale e nello stesso tempo razionale qual è un giardino cinquecentesco all'italiana delle opere moderne create con mutevoli espressioni ora intuibili ora ermetiche ora leggibile con cui si esprime l'arte contemporanea in maniera ad arricchire e valorizzare le esperienze dei singoli artisti quindi Forme nel Verde come amava sostenere Mario Guidotti comincia come esposizione di opere di artisti famosi in campo internazionale italiane e stranieri quasi tutti non figurativi secondo quel criterio di inserimento in un ordine classico come quello appunto degli orti leonini di strutture prive di significati espliciti e contenuti comuni perciò anche informali e astratti quindi c'è una volontà di anche non essere mimetici ma proprio di portare anche a volte forse con un velo di ironia quella che è l'arte un po' più lontana forse da quella che erano le forme del passato e quindi materiali diversi informali in un modo che però potesse sicuramente trovare un appoggio e una sorta di lettura anche democratica da parte della popolazione sempre per la mostra sempre per il catalogo dell'82 Enzo Carli che scriveva un testo di presentazione alla rassegna e riappellandosi alle lezioni passate sosteneva che il trattamento della materia è di essenziale importanza quando si tratta di sculture da esporre all'aperto perfettamente isolandole nello spazio e ciò cosa ben diversa dalle statue e da rilievi ad esempio che adornano l'esterno delle cattedrali e delle chiese sia antiche che moderne e che non possono prescindere dal loro legame con l'architettura alle quali si legano in questo contesto in un mare di verde letteralmente scandito dalle linee geometriche di questo singolare parco Guidotti immaginò subito delle sculture quindi soprattutto dalle prime edizioni è la scultura che la fa da padrone all'interno del giardino installazioni contemporanee e temporanee che portassero delle opere ad essere lette da tutti in un contesto non museale se vogliamo fu una formula vincente se consideriamo le decine di edizioni che da quella data poi si sono succedute e che hanno portato artisti del calibro di Arnaldo Pomodoro Luciano Fabbro Pietro Consagra Spender Michelangelo Pistoletto e tanti altri che non sto nemmeno a citare qui in una sorta di epifania la scultura diviene espressione e parte del paesaggio toscano in cui si trova manifestandosi dietro le siepi appunto sempre ben curate disposte in modo impeccabile un'arte nell'arte dove la contemporaneità riesce a incastonarsi nell'antico cito anche qui ogni anno Forme nel verde ricerca il dialogo virtuoso l'incontro fra le arti attraverso modalità espressive diverse per l'artista chiamato a esporre ogni volta una sfida interpretare le geometrie all'italiana del parterre il bosco all'inglese del declive che porta al ripiano superiore secondo la propria sensibilità e aprire con gli elementi di architettura verde un discorso estetico rispettoso insieme e fecondo di nuove interpretazioni e di nuovi possibili punti di vista sul giardino e sulle proprie opere un giardino storico come gli orti rionini non è uno spazio museale più o meno neutro entro cui sistemare un corteo di opere d'arte una dietro l'altra è esso stesso opera d'arte e dunque esige rispetto ma al tempo stesso è capace di fornire pretesti occasioni all'artista di organizzare il pensiero che sottenda un'esposizione a plenare tenendo conto delle modalità attraverso cui si stabilirà il rapporto con l'occhio del visitatore che passeggia nei viali di verde con la luce che invade lo spazio con gli odori dell'essenza arboree con i suoni nascosti negli anfratti del bosco e del sottobosco e qui arriviamo quindi adesso torniamo indietro alla prima edizione quella del 1971 Forme del Verde si è sempre svolta nel periodo estivo in particolar modo tra i mesi di giugno e di luglio tranne appunto questa edizione particolare del 2021 nel 71 ho riportato alcune parole di Silvano Giannelli che è uno degli autori dei test all'interno del catalogo furono scelti nove scultori con un criterio all'epoca occasionali scegliendoli fra quanti operano tra Firenze e Roma o che comunque entro quest'area geografica e culturale si sono formati Enzo Assenza Marcella Venali Angelo Canevari Milella Forlivesi Marcello Guasti Giovanni Meloni Alessandro Tagliolini Mino Trafelli e Venturino Venturi bene questa è stata diciamo l'avvio di Forme nel Verde ma l'edizione che sicuramente getta le basi poi per tutti gli sviluppi successivi mentre all'inizio molto spesso gli artisti portavano opere fatte precedentemente quindi non pensate appositamente per lo spazio degli Orti Leonini vedremo con il passare degli anni arrivando più in epoca moderna che gli artisti invece iniziano partono dal sito dialogano maggiormente con questo e scelgono di lavorarci in modo che le proprie opere siano pensate esattamente per quello spazio qui è l'edizione già citata del 1982 che vede una personale quella di Petro Cascella e una collettiva anche qui c'è si sdoppia la mostra diciamo così San Quirico Dorcia e Caprese Michelangelo sono le due località che tra il giugno e l'agosto dell'82 vedono susseguirsi una serie di iniziative appunto Cascella che porta alcune colloca alcune delle sue opere degli anni precedenti all'interno degli Orti Leonini e poi la collettiva proposta per uno spazio da vivere che invece ci porta alcuni nomi che poi nel corso degli anni ritorneranno sia in collettiva che in personali c'è anche questo di caratteristico che molto spesso all'interno di Forme del Verde si sceglie di richiamare anche degli artisti che hanno già interpretato quello spazio leggendolo in un modo diverso a seconda degli anni della propria poetica artisti anche del territorio perché è importante comunque oltre ad ospitare artisti internazionali o di altri territori è importante proseguire il dialogo anche con gli autotoni cioè con chi lo vive con chi è nato e cresciuto in quel territorio nella collettiva dell'82 cito gli artisti gli scultori che erano presenti Pier Giorgio Balocchi Mauro Berrettini Berrettini tornerà anche in seguito Rinaldo Bigi Daniel Cuvé Emanuele Giannetti Paolo Schiavocampo e Cordelia von der Steinen anche lei a più riprese dialogherà con lo spazio degli orti Leonini Arriviamo all'edizione dell'86 la cito questa perché è un'edizione a cura di Enrico Crispolti una delle personalità che più ha studiato storicamente l'arte nello spazio pubblico Crispolti allora era professore presso l'Ateneo Senese e quindi ha stretto dialogo con un territorio come quello della Val d'Orcia parliamo ancora di scultura e ancora con la presenza di giovani artisti ai quali il curatore Crispolti dice di portare tre opere ciascuno quali erano gli artisti Carlo Birotti Santo Ciconte Maria Dompe Anselmo Giardini Valeria Giovagnoli Scotti Biagio Gliadarola Pasquale Liberatore Giuseppe Pulvirenti Caroline Remensdorfer Natale Rocco Luigi Pollaro Alberto Zanazzo perché questi allora perché questi nomi Crispolti parla di un ritorno alla scultura appunto quello della prima metà degli anni ottanta che vuol dire sostanziale restituzione della centralità tradizionale del fatto plastico non solo come massa ma spesso anche come figura un ritorno all'uso di materiali appunto tipicamente tradizionari per la scultura anzitutto il marmo in particolare e un ampio repertorio anche prezioso di pietre tuttavia anche materiali poveri eppure di ricca e non meno aulica tradizione come la terracotta qui lui sintetizza praticamente tutte le tecniche che hanno visto un dialogo con questo spazio e che continueranno a vederlo poi negli anni a venire non solo i materiali ma si parla anche della forma del tema Crispolti aggiunge il frequente ritorno all'immagine alla figura umana sul ceppo di quella tradizione umanistica e con un'esistenza che significa certamente ove si manifesti restituzione di centralità alla figura lui sceglie di portare quindi agli orti leonini dodici giovani scultori cioè un'antologia breve ma articolata della più giovane nuova scultura italiana perché? perché anzitutto già che credo necessario prendere atto finalmente dell'esistenza anche di questa nuovissima generazione nell'ambito appunto del dibattito attuale sulla scultura e di una generazione intimamente implicata nei destini attuali di questa bene la scelta di portare anche la giovane arte a dialogo con un luogo storico qui vi mostro tre donne tre artiste Maria Dompe Valeria Giovagnoli Scotti e Caroline Remesdorfer è l'anima intima di questo progetto del progetto della rassegna di forme nel verde passiamo agli anni novanta l'edizione del novantasei vede l'artista Matthew Spender che ci propone una mostra in terracotta siamo nella ventiseiesima edizione di forme nel verde che viene realizzata in concomitanza con la mostra storica della ceramica di San Quirico un'antica tradizione artigiana locale che vale la pena di celebrare e ricelebrare l'artista inglese a cui è dedicata una personale nel giardino propone delle opere realizzate sia site specific quindi appositamente per il giardino che delle opere tipiche della sua produzione vorrei leggervi giusto delle parole dell'artista stesso che introducono la sua opera e la sua mostra all'interno degli orti questa mostra evidenzia le forme locali riscoperte attraverso le mie mani forma per me non significa né l'organizzazione estetica della superficie né una citazione di grandiosi modelli antichi penso invece alla forma del paesaggio stesso mi sembrano significative perché lui qui vuole proprio celebrare il paesaggio in cui si trova ad insistere le mie statue nascono doppiamente dalle colline che mi circondano sono create dall'agilla che si trova sotto e la forma stessa della collina plasmata da generazioni di contadini con zappa evidente e la schiena piegata come l'arco si ritrova nelle curve delle figure che faccio i soggetti che Spender porta all'interno degli orti lonini si dividono in custodi madri spettatrici figure sedute figure che si svestono figure a terra lavori per la chiesa e ritratti ricordiamoci che nel 95 la Val d'Or ha anche il set del film Io ballo da sola e proprio alcune statue e alcune opere dello scultore inglese vengono inserite all'interno del film da Bertolucci uno stacco si ha negli anni zero nel 2009 la personale di Marzia Migliora Migliora è un'artista poliedrica che di origine di Alessandria origine torinese quindi anche abbastanza giovane siamo classe 72 nel 2009 curata da Marco Pierini che cosa fa interpreta l'anima degli orti leonini due minuti e 32 secondi è quello è la sua filosofia diciamo di interpretazione del giardino Pierini spiega così quest'opera e questo titolo l'idea della seduta oggetto per sua propria natura preposta all'accoglienza nasce come diretta derivazione di questa volontà raccolta attorno all'ingombrante marmo di Cosimo III le quattro strutture offrono ombra e permettono quiete il gesto di mettersi a sedere però quasi paradossalmente coincide con l'inizio di un viaggio un lentissimo fluido costante percorso circolare di 2 minuti e 32 secondi al termine del quale ogni angolo del giardino avrà incontrato a lungo lo sguardo del passeggero e avrà rivelato di sé particolari destinati a rimanere altrimenti nascosti marzia migliore dialoga molto nelle sue opere anche con il video quindi con l'immagine in movimento che cosa fa pensando agli orti leonini lei pensa a quattro sedute quindi torniamo prima al turismo lento al momento della riflessione dello stare seduti e del contemplare l'ambiente in cui ci si trova a sostare appunto non solo perché come vedete da uno degli schizzi che ho tratto appunto dalla pubblicazione di Pierini tre delle sedute sono ferme una delle quattro sedute totali invece può girare e quindi come una giostra un'idea ludica ma anche un diverso modo di interpretare la visuale a 360 gradi che le persone in base alla velocità in cui si trovano a girare la propria seduta possono avere del giardino stesso e quindi anche una sorta di film di immagine in movimento che ritorna molto ad abbracciare la poetica di questa artista arriva alla conclusione e quindi agli ultimi anni negli anni più recenti la rassegna ha cercato sempre di più di unire quindi i nomi di scultori ormai navigati e internazionalmente riconosciuti a quelli di più giovani artisti o artisti emergenti sempre con quella volontà intima appunto di questa manifestazione di guardare al passato in modo rispettoso ma anche di proiettarsi verso il futuro aprendosi a qualsiasi tipo di linguaggio artistico e soprattutto lasciando spazio a quella freschezza che i più giovani possano portare in un contesto così importante dal 2017 al 2019 la rassegna di Forme nel Verde è stata curata da Gaia Pasi anche lei giovane curatrice di origine senese che ha dato una sua impronta alla manifestazione facendola crescere come dice Pasi mi occupo di arte emergente da sempre e quindi ho subito pensato di coinvolgere i giovani artisti e dare spazio alla loro formazione e promozione San Quirico si è trasformato in un cantiere d'arte dove nei 15 giorni di allestimento si organizzano workshop con gli studenti si producono installazioni set specific performance giornate di studio su argomenti speciali questo è importante perché la manifestazione non è più rilegata alla mostra ok ma prevede anche tutto un percorso partecipativo e formativo precedente quindi è contestuale ovviamente ai giorni della mostra vi ho portato l'edizione del 2019 antifragile in cui sono stati coinvolti appunto gli studenti delle accademie toscane e dell'Accademia di Belle Arti di Roma concludendo la storia di Forme nel Verde quindi è una storia scandita sicuramente da tutte le sue edizioni dai curatori che hanno dato la sua direzione e da tutte le collaborazioni instaurate con gli enti e le istituzioni che a vario titolo in questi anni hanno collaborato alla realizzazione della stessa dal 1971 ad oggi i cambiamenti sono sicuramente stati tantissimi e diversi tra loro tutti chiaramente documentabili attraverso cataloghi che tra l'altro il sito di Forme nel Verde ha messo a disposizione online quindi ognuno li può sfogliare dalla prima edizione fino a quella di questo anno ma non solo c'è un archivio poderoso fotografia altro materiale resta fermo in ogni edizione il concetto l'idea iniziale di stare al passo coi tempi senza mai dimenticare le radici da cui si è partiti ovvero la scultura all'aperto diffusa nel territorio di San Quirico e della Val d'Orcia quindi che parte dagli orti leonini ma riesce anche a fuoriuscire da essi e il dialogo mai mimetico con il paesaggio toscano io ringrazio entrambi per per averci proiettati nelle suggestive bellezze della Val d'Orcia e per per averci offerto molti spunti di riflessione ringrazio Giorgio per per avere letteralmente riconfigurato un aspetto piuttosto differente del degli orti leonini rispetto alle nostre conoscenze e i nostri convincimenti e mi sembra importantissimo questo questo importante ritrovamento molto questo insomma questa sorta di silloge di iscrizioni che consente certamente combinata con una serie di altri elementi come la cartografia le vedute le considerazioni per esempio sulla sulla parte botanica che richiede ovviamente un occhio molto attento e una grande competenza di capire che la struttura del del giardino quella che noi conosciamo e siamo sempre stati abituati a considerare il tardo rinascimentale in realtà è frutto di un revival decisamente seriore e che invece la foggia iniziale di questo luogo era assai diversa con la struttura appunto che è stata richiamata all'isca di pesce è il caso appunto in cui lo storico il lavoro dello storico del giardino è in grado appunto di andare a riconfigurare l'assetto originario di un luogo partendo da delle tracce che a volte sono anche delle tracce diciamo apparentemente secondarie che in questo caso hanno quagliato insieme grazie appunto all'elemento decisivo del ritrovamento documentario francese ma insomma mi sembra una restituzione questa molto importante grazie anche a Martina Martina Marolda che ci ha invece accompagnati nella scoperta degli orti leonini e nella proiezione che questo luogo si è trovato ad avere nella dimensione contemporanea grazie appunto alla rassegna forme nel verde consentendoci in questo modo anche proprio attraverso la serie di esemplificazioni questa sorta di cavalcata quasi che ci ha proposto ad ampio spettro cronologico nell'ambito di questi 50 anni di vita della rassegna ci ha consentito di vedere quanto possa essere prolifico il dialogo tra passato e presente e quindi anche come il giardino e il paesaggio e questo lo dimostra proprio l'edizione di quest'anno che appunto ha sconfinato dal perimetro del giardino nel paesaggio della Val d'Orcia possano arrivare ad ispirare anche delle delle creazioni artistiche odierne quindi quanto il giardino anche nella sua dimensione storica possa essere fortemente sollecitante grazie anche a tutti coloro a tutti voi che ci hanno seguito fino a qui e che invito a restare in contatto con il sito del centro sul paesaggio toscano per vedere le iniziative che vi avranno luogo altre mostre una l'abbiamo appena postata ma altre mostre verranno postate nel corso dei prossimi mesi quanto invece alla rassegna giardini ed intorni sospendiamo per il momento i lavori e vi do quindi appuntamento alla primavera del 2022 grazie a tutti e buonasera grazie a tutti